Benvenuti in Umbria. Sono Danilo, titolare dell'Enoteca Wine Bar Bonder Umbria, una vasia all'interno del centro storico di Torriano, che ci parla di vini e di specialità gastronomiche della nostra magnifica regione. Al suo interno troverai uno spazio dedicato alla vendita ed un altro alla degustazione. Un ambiente tranquillo e suggestivo dove potersi rilassare degustando specialità locali, il cui protagonista assoluto è il vino della migliore selezione. Il menù è quello che servisce ad un Enoteca breve ed essenziale, ma molto curato nella qualità e nella preparazione. Wander Umbria è anche una piccola perla di eccellenze gastronomiche selezionate con estrema cura tra i produttori della nostra regione, la cui offerta trova il suo spazio anche online nel portale www.wanderungria.com. Vi aspettiamo a Torriano!